finisce oggi il mese di maggio il mese ribassista il mese più difficile per i mercati cripto per bitcoin degli ultimi 8 mesi l'ultimo anno potrei dire ma cosa è successo in questo mese cosa ci ha indicato il mercato prepariamoci a quello che potrebbe avvenire da giugno in poi ragazzi perché il mese di maggio è stato un mese di cambiamento un mese di change abbiamo avuto probabilmente una chiusura di un ciclo annuale abbiamo visto il mercato soffrire abbiamo visto la battaglia contro bitcoin come sempre avviene con le notizie sparse dalla cina i tweet di il onno e tutto il resto è finita una fase oggi andiamo ad analizzare tutta la price action del mercato cripto di bitcoin per vedere quali tracce btc ci ha lasciato e che cosa ci sta dicendo quali sono i pericoli per il mese di giugno ma prima di andare avanti prima di andare all'interno di questo video di vedere tre grafici che ho già preparato per voi ragazzi e tutto quello che il mio programma già stampato nella mia mente il mio trading plan per il prossimo mese vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non avete vantosci di pollicioni perché con i pollicioni mi aiutate ragazzi e poi soprattutto visto che questo è un video di il btc io prendo di nuovo il mio bitcoin porta fortuna e sbam lo mettiamo qua davanti ragazzi perché questo ci porterà fortuna per i prossimi mesi o almeno dovrebbe ragazzi l'ha fatto per tre anni quindi da ok dati da fare muoviti muoviti va bene ragazzi allora iniziamo subito dalla analisi del price section una serie di appunti diciamo perché le cose a dirvi sono veramente veramente tante allora la prima cosa che volevo analizzare era il grafico di natura mensile ragazzi per andare a capire quello che è successo negli ultimi mesi a livello di price section quello che il mercato ha lasciato davanti a noi allora intanto ragazzi questa candela veramente bruttina è una candela di ovviamente versione di trend di un trend che durava ormai da aprile quindi da un anno per precisamente sembrerebbe una engulfing bearish ma in realtà non è un engulfing bearish ragazzi questa candela questa è una candela che crea uno swing point i cioè crea una inversione di un trend di medio lungo periodo un anno o creando un pivot un massimo la potremmo chiamare sostanzialmente una evening star una evening star un po strana ragazzi questa candela qui si chiama aspettate vi tolgo un po di disegnini questa candela si chiama evening doji star cioè in pratica è una candela che segna la un massimo avvenuto dal punto di vista di massimo sicuramente massimo relativo in questo momento però anche storico di qualche mese potrebbe durare anche un po di mesetti perché questa candela non è un engulfing bearish che tra l'altro sarebbe una candela abbastanza pericolosa quindi per fortuna diciamo non è quel tipo di di candela cioè non è quella candela lì ragazzi perché non va a breccare il mese di maggio i massimi del mese di aprile cioè quindi i massimi avendoli fatti ad aprile questa candela è semplicemente una candela di correzione ma non è quella dell'inversione definitiva del trend quindi non è una candela estremamente negativa allora è una candela di inversione però non è molto negativa in quanto ci dice che questo tipo di massimo è avvenuto qui e si chiama swing high pivot quindi o un point high chiamatelo come volete voi poi però ragazzi con il break di questi minimi essendo questa candela appunto che non ingloba la precedente vedete per questo non è una engulfing perché non ingloba la precedente candela essendo stata una candela che è partita da qua e subito scesa in pratica questa è una candela di continuazione di un trend che era finito nel mese di aprile avendo rotto e beccato poi tra l'altro i massimi e i minimi scusate è andata a fare praticamente una super correzione adagiandosi poi a livello mensile su questa media che è la media degli ultimi 11 mesi quindi in pratica quella è la media cosiddetta media annuale cioè degli ultimi 11 mesi di bitcoin avendo fatto questo però poi il mercato ha reagito questa reazione è molto importante perché se noi abbiamo da un punto di vista di price action la creazione di uno swing point high con la candela di aprile può essere che la candela di maggio abbia fatto uno swing point low e questo è un punto a favore del fatto che il mercato possa nei prossimi mesi nelle prossime settimane cambiare nuovamente trend e riprendere il trend principale però dobbiamo andare un pochettino a passetti quindi dobbiamo in attimo un attimo ragionare su alcune cose molto importanti allora ragazzi intanto la prima cosa che dimostrano e indicano questi tipi di pattern di price action questo pattern che è un punto di massimo indica che il ciclo che noi abbiamo visto iniziare da aprile con questa serie di candele verdi è terminato qui con il break dei minimi del mese di aprile e il fatto che il mese di maggio non abbia creato nuovi massimi in pratica dichiara che questa fase totalmente questo trend di un anno termina in questo punto ed è anche il fatto che ci spinge a ragionare sulla famosa chiusura del ciclo annuale che stavamo attendendo ragazzi ciclo annuale che è iniziato come vedete qui in questa fase di di marzo 2020 e che probabilmente termina con maggio 2021 però è ancora un probabilmente perché bisogna attendere secondo me una decina di giorni a giugno vi dico adesso perché è anche una strategia che sto creando con la mia academy tra le altre cose dove dalla scorsa settimana ho condiviso una una live abbiamo fatto una live in academy ragazzi dove ho spiegato quello che è la mia idea ve lo dico anche oggi vi do un accenno anche oggi è quello che proveremo a fare tutti insieme in academy nel mese di giugno perché potrebbe essere una cosa estremamente intelligente tra le altre cose siccome mi piace molto anche questo tipo di operatività ho deciso di registrare totalmente quello che farò a giugno per vedere di creare appunto dei video di formazione da inserire nel mio corso ragazzi perché penso che vedere da un punto di vista pratico anche l'operatività di un trader in determinati momenti che spiega appunto tutte queste analisi raccolte all'interno di un modulo del corso sia di grandissimo potere istruttivo questo è il non distruttivo istruttivo questo è secondo me molto importante quindi ho deciso di fare questa cosa ragazzi di registrare questi spezzoni vediamo cosa ne esce speriamo bene però la mia idea generale ragazzi è che il ciclo annuale si sia chiuso qui ma il mercato nei prossimi dieci giorni probabilmente tenterà di breccare i minimi fatti a maggio e questo è il mio unico dubbio ve lo avevo già accennato comunque la scorsa settimana essendo comunque ragazzi un swing point high questo qui il tecnicamente ci indica che da qui in poi il trend si è invertito nel medio periodo e che appunto con una candela che brecca i minimi della di aprile da questo punto in poi il mercato è entrato in un trend ribassista questo è tutto vero se non che questo tipo di candela proprio quella che si è creata a maggio è molto molto rilevante ecco perché vi ho specificato ragazzi che non è che è molto importante dare a questa candela di maggio il giusto peso la giusta considerazione appunto non è un engulfing altrimenti sarebbe una candela fortemente ribassista è invece possibile che il mercato a maggio abbia provato a creare uno swing point low cioè ha fatto una correzione è vero ma fatta totalmente dentro maggio e questo nuovo minimo potrebbe essere la stessa cosa che ha dimostrato questa candela però al contrario quindi in questo caso se qui ha creato un massimo ha già finito la correzione e questo è una candela di swing point low se questa cosa è vera allora da giugno in poi il mercato avrà la possibilità di riprendere un trend completamente diverso attenzione però riprenderà il trend di prima no ragazzi il trend di prima quello che abbiamo visto svilupparsi da marzo del 2020 fino al mese di aprile è terminato ragazzi ok quindi il mercato con l'indicazione della price action che vi sto dicendo con il swing point high creato ad aprile indica quella fase terminata ragazzi quindi tutto quello che era quella fase di trend il ciclo annuale come lo chiamiamo anche noi è terminato con il massimo di aprile però questo non significa che il mercato non possa andare a fare un nuovo trend e magari questo nuovo trend ragazzi possa essere anche in grado di rompere i massimi storici questo è quello che un po ci attendiamo quando parliamo della famosa seconda gamba rialzista che il mercato delle cripto forse dovrebbe ancora creare ok quindi l'idea generale è che tra da giugno in poi se resisto il mercato i primi la prima settimana di giugno il bitcoin potrebbe andare a rinfocillarsi quindi ricaricare le sue energie e ricreare un nuovo ciclo annuale che possa in effetti continuare questa fase di trend alla rialzo ragazzi con la stessa spinta facendo di nuovo il più 350 la vedo un po difficile questo però potrebbe ovviamente continuare a stare sopra alcuni livelli che magari sono importanti come per esempio quelli vecchi sopra che magari non riuscirà più a tornare sotto 10 mila 20 mila insomma questo poi lo vedremo ragazzi però da giugno in poi probabilmente il mercato tenterà di creare una nuova fase ed è questa nuova fase che dovrà prendere la nostra attenzione ragazzi quindi dimentichiamoci ormai definitivamente di quello che è avvenuto da marzo ad aprile perché è una fase che il mercato l'ha chiusa ok ora ne inizierà un'altra se riuscirà a mantenere validi i minimi del mese di maggio o quantomeno se i minimi nella prima decada di giugno poi vengono recuperati subito dentro il mese di giugno quindi ragazzi disegnate un arco temporale i mercati non rispettano il calendario solare ok quindi dobbiamo dargli un po' di spazio al mercato per capire se effettivamente i minimi di maggio sono minimi e quindi questa candela è appunto uno swing point low se uno swing point low allora da qui inizierà un nuovo trend poi bisognerà capire se magari farà una cosa del genere per più mesi oppure inizia subito a fare candele se ne va a fare nuovi massimi ma su questo ragazzi ci aggiorneremo perché non si può prevedere il mercato da qui prossimi mesi non facciamo gli stolti gli sciocchi come diceva gandalfa ok allora andiamo a ragionare però su cosa aspettarci e qual è la strategia di giugno che secondo me si può creare proprio grazie a tutte queste cose che io vi ho già accennato la scorsa settimana ho detto in academy sempre in quella live ragazzi che mi aspettavo che gli ultimi quattro giorni di maggio fossero un'oscillazione vicino i prezzi tra 37 mila e 38 e che il mercato andasse a chiudere maggio intorno ai 37 39 più o meno in quella fascia lì ragazzi ok perché perché l'idea generale era che poi la prima decada di giugno il mercato provasse a scendere per vedere se appunto i minimi fatti a maggio fossero consistenti sono significativi allora se il mercato fa questa cosa ragazzi potrebbe tentare di fare la prima decade di giugno un po debole allora questa cosa qui potrebbe essere estremamente pericolosa perché il mercato va a tentare magari di di fare nuovi minimi e crea la famosa shadow ribassista ve la faccio vedere sul grafico ragazzi ho proprio fatto una live dove spiegavo questa cosa la scorsa settimana in academy allora potrebbe tentare di aprire qui domani perché stanotte insomma alla mezzanotte utc dopodiché tenta magari di fare una piccola shadow ribassista e vede se riesce a sostenere appunto questi minimi se ce la fa ragazzi poi potrebbe creare una prima candela verde scusate qui ho fatto un po i disegni miei un po strani potrebbe creare una prima candela verde in questo caso sarebbe appunto una verde che va a recuperare una parte di quello che è successo a maggio questa cosa da un punto di vista tecnico è molto buona perché ci consente di poter ragionare nel mese di giugno sui vari pivot point che vedremo ad esempio nel canale ragazzi quindi iscrivetevi perché sarà secondo me se molto interessante quello di giugno proprio per andare a cercare questa nuova operatività e andremo poi a cercare di prendere questi dip questi punti perché perché se il mercato in effetti poi disegna una candela verde e ci dà questo ingresso nei primi dieci giorni di giugno ci sta invitando a nozze potrebbe essere una buon trade ovviamente ragazzi ricordatevi che passi gradi se non c'è quindi sicuramente il mercato cercherà di anacquare fare di tutto e di più per buttarci fuori ma lì sta alla nostra bravura nell'essere trader quindi da un punto di vista operativo e la prima decada di giugno potrebbe essere interessante proprio per continuare i nostri le nostre fasi di accumulo non a caso ieri ragazzi vi ho pubblicato un video sulla un bot che vi fa la dca automatica proprio perché secondo me è interessante quel botte ragazzi proprio per la sua semplicità e magari può aiutare tantissimi neofiti ovviamente in questa fase quindi per riassumere ragazzi allora se il mercato tenta di fare nuovi minimi da domani in poi ma non ci riesce conferma che questo minimo è uno swing point low e che quindi la correzione iniziata in questa candela qui è terminata direttamente nel mese di maggio se ci indica una cosa del genere allora è positivo perché qui probabilmente avremo un nuovo ciclo annuale iniziato poi bisognerà capire se il mercato resisterà nei prossimi mesi e farà un nuovo ciclo annuale magari così rialzista che è quello che tutti ci aspettiamo oppure no oppure no perché se poi fa due mesi così ragazzi e poi va a breccare a quel punto è un problema perché il ciclo annuale sarà ribassista e quindi andremo nella famosa fase bearish e di correzione del mercato ma poi ne parleremo io in questo momento vi tengo questo qui vicino e dico no 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 ok questa fase però questo è la valutazione cosa può capitare invece se a giugno il mercato non rispetta questo minimo è un po' più pericolosetto perché se a giugno il mercato non rispetta questo minimo ragazzi apre e va giù a breccarlo allora avrà indicato che questo swing point è un punto di massimo in questo momento storico che probabilmente resisterà per qualche mese e anche più ok e quindi da qui si è proprio invertito il trend ragazzi perciò dovremmo poi aggiornare la questione e vedere perché se il minimo lo aggiorna di qualche dollaro ragazzi qui siamo più o meno a 29 se il minimo lo aggiorna 28 25 ok non è nulla ragazzi è solo rumore oscillazione ma se inizia a scendere in maniera profonda arrivando a 24 22 insomma il mercato ha invertito il trend in maniera definitiva cioè lì non è possibile andare a ragionare in maniera diversa ecco perché con queste fasi estremamente rischiose bisognava essere sempre preparati in anticipo su queste cose ok l'ho detto più più volte ragazzi io ho ancora la mia parte hold sul mercato pari all'ottanta per cento dei btc ho chiuso soltanto tutto il resto dei lei trade anzi a dire la verità sul breve sono long ragazzi che sono long da 30 mila più un'altra cosa comprata a 34 ve lo faccio vedere comunque nei prossimi video magari dove parliamo proprio della dell'analisi del breve però nel medio termine siamo fuori insomma abbiamo tante cartucce da spendere e le spenderemo proprio da domani ragazzi seguendo questa logica che vi ho detto in academy faremo tutte seguiremo questa operatività ho deciso di fare questo test per il mese di giugno cioè improntare quelli che sono dei livelli di acquisto e delle aspettative che valgano tutto un mese ragazzi per vedere se riusciamo a operare con semplicissime operazioni 23 operazioni difendendo quella che è la posizione e vedere quanto portiamo a casa secondo me è una bellissima opportunità e ci provo ragazzi ok questa volta deciso di provarci ovviamente sul canale youtube scriverò sempre tutto quello che andiamo a creare e se posso anche sul canale telegramma ragazzi ovviamente tempo permettendo ok va bene allora questa è l'idea e questo è quello che il mercato ci sta dicendo per quanto riguarda il mese di giugno voi di che idea siete allora ragazzi secondo voi il minimo di maggio resisterà abbiamo fatto uno swing point low a maggio e iniziamo una nuova fase sì o no cosa ne pensate scrivetemelo come sempre nei commenti noi ci rivediamo nel prossimo video ciao a tutti